buonasera a tutti ragazzi buonasera e buon venerdì allora breve video mancano un paio d'ore all'estrazione ieri sera altra estrazione bellissima molti di voi hanno vinto con l'uno e 90 su tutte noi ce l'abbiamo su bari cagliari il foglio stampato nessuno può dire niente purtroppo è uscito l'ambo secco su tutte parecchi di voi l'hanno giocato e ovviamente io premio chi mi segue perché tutti quelli che hanno giocato l'uno e 90 su tutte vincendo con una previsione gratuita riceveranno la previsione telefonica riceveranno la previsione telefonica con il 90 che abbiamo messo oggi allora ci sono tre quattro previsioni in gioco del servizio telefonico speriamo che fra stasera e domani si sfaldano altrimenti non possiamo metterne più e perché è giusto che chi ha preso la previsione deve giocare quelle piccole previsioni che ha telefonato e che ha preso e deve portare avanti nel servizio telefonico c'è il 39 stellare anche ieri sera per un pelo non ci regalava l'ambo secco va bene si continua abbiamo il 42 in gioco mi raccomando fortissimo la spia 68 che è ancora in gioco non bisogna abbandonare le previsioni e poi abbiamo messo il 90 su ruota unica coprendo la nazionale ok con solo due abbinamenti perché dico di continuare le previsioni ieri nel gruppo matolotto ancora una volta abbiamo dimostrato giustamente qualche scontrino è arrivato ma abbiamo deciso di non farli vedere per perché la previsione ormai era conclusa dopo aver preso il 48 come estratto ieri sera ambo in terzina più ambo secco più 48 in posizione più un ambetto la previsione era 48 74 79 è uscito 48 74 78 proprio ieri su palermo allora e scusate su roma la previsione era 48 74 79 è uscito 48 in posizione 48 74 ambo secco 48 75 ambetto ma una previsione che noi avevamo tolto perché giustamente avevamo preso il 48 al primo colpo allora questa è la previsione che io vi sto regalando non la tolgo 1 90 è uscito ma chi se ne frega chi se ne frega ci può pagare lambetto su bario su cagliari può uscire 2 90 può uscire 1 89 chi se ne frega si continua si continua sta girando questa previsione l'estrazione prima su milano 77 79 il risoria ieri sera un bellissimo ambo secco su tutte io premio premio assolutamente chi mi dà fiducia mi avete mandato parecchi scontrini anche un solo euro di ambo secco su tutte ma avete recuperato la giocata e ci permette di giocare non è una una grossa vincita la maggior parte degli scontrini sono un euro un euro e 50 su tutte perfetto non è che diventiamo ricchi ma abbiamo recuperato la giocata e possiamo portarla avanti 1 95 90 bari cagliari il 90 sta uscendo su tutte le ruote è atteso per me su bari cagliari poi posso sbagliarmi perfetto sarò il primo che dirò mi sono sbagliato la previsione è conclusa ma secondo me il 90 deve uscire su bari e cagliari ecco perché insisto su queste due piccole previsioni ricordatevi che chi mi manda lo scontrino io regalino io lo faccio sempre non siete voi che fate regalino a me ma sono io che lo faccio a voi allora mancano pochissime ore pochissime un paio d'ora all'estrazione nel servizio telefonico avete trovato il 90 su questa ruota ho dovuto coprire la nazionale perché ruota unica ci esce l'ambo secco lambetto il terno secco sulla nazionale perché maurizio tu non mi hai detto la nazionale ma la ruota primaria del 90 e roma all'interno del servizio telefonico ci sono due abbinamenti per ambo e ambetto ok perciò vedete per me certo se usciva il 90 bari cagliari vanno solo questo 90 a roma io 90 non è che lo metto in gioco per fare chissà lo metto in gioco quando le mie tecniche mi danno il 90 se ci fate caso 9 e 90 è un pezzo che io non lo faccio più giocare perché perché le mie tecniche non me lo danno se ci sarà una tecnica che chiamerà 9 e 90 lo assolutamente lo darò il 90 ve lo regalo anche a voi che non avete telefonato seconda e terza posizione il 90 in seconda e terza posizione ok attenzione a questi due ambi perché ripeto sono molto forti ok sono molto forti 1 e 90 peccato è andato su milano chi se rega lo giochiamo su bari cagliari i numeri si possono ripetere occhio a quella previsione col 39 soprattutto su questa ruota dici maurizio ma ti sei rincoglionito c'è già il 39 su bari è apposta per questo occhio perché questo 39 sulla ruota di bari lo rivedremo